Oh, dai, dai! Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e su, su, lato, lato. O, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, avanti. O, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e uno, uno. O, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e avvicino i piedi su, su, qui. O, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Braccia qui. Con energia. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ancora. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Sempre così, con le gambe, ma applaudo. Qui, un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e stop. Mi fermo. Gambe ribaricate. Piego la gamba, allungo in alto e alterno. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e slessioni laterali del busto. Pletto, 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 uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ancora. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e torsione, 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 torsione. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e stop. Ritorno. Eh? Allungo, no. Niente allungo. Niente allungo. Niente. Un, due, e, un, qui, su, due, apro, su, tre, su, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto, sette, sei, sei, cinque, quattro, tre, due, e, uno. Uno, stop. E no, e non facciamo più quello. Allora, da qui piego e stendo. Un, due, un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, ci aggiungiamo. Piego e stendo. Salgo. Salgo. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ancora, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, due, e, uno, cambio, cambio, parte, non allungo, non allungo niente. Un, due, due, tre, quattro, cinque, sette, otto, ancora, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, e salgo qui. Due, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto, certo che con le cavigliere renderebbe di più, eh? Un, due, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno, stop. Ora ci mettiamo a terra. Non si allunga. Perché potete allungare a tutti i costi? Mica finita? No, niente. Niente. Allora. Su. Piego. Stendo. Giù. Pettorali. Un, due. Facciamo che li teniamo però, i glutei alti, isometria. Dai. Un, due. Pettorali e tricipiti. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Ancora. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. E uno. Stop. Ora facciamo un altro esercizio molto bello. Dunque. Piegate le gambe. Da qui. Salgo. Qui. Chiudo. Scendo. Salgo. Apro. Qui. Scendo. Su. Apro. È divertentissimo. Scendo. E. Tre. Qui. E. Giù. Quattro. Qui. E. Giù. Cinque. Qui. E. Giù. Giù. Qui. E. Giù. Sette. Su. E. Giù. Otto. Su. E. Giù. Ancora otto. Su. Giù. Sette. Sette. Cinque. Quattro. Tre. Due. ho sbagliato e uno stop che stanchezza allungo facciamo ancora due va? allora eagle crunch accovaccio a cavallo le gambe salgo e scendo uno due tre quattro cinque sei sette otto e cambio parte vado otto sette sette sei cinque quattro tre due e uno stop ok ginocchio al petto appoggio mi giro qui e allungo lungo finalmente finalmente si allunga la daniela è venuta per allungare mani alle spalle sollevo mi siedo e pian piano sbrotolo la colonna e qui respiro giù ancora uno su e fuori tutto giù bravissime u ane me ane a e a a Grazie per la visione!